MyViewBoard di ViewSonic è la piattaforma di apprendimento visivo che equipaggia i monitor touch di ViewSonic. Se avete acquistato con noi di C2 Group un monitor ViewSonic, avete questa piattaforma direttamente all'interno del vostro monitor touch. La piattaforma è composta da più programmi. Ci sono tantissime applicazioni che possono essere sfruttate sul monitor touch, su un computer collegato al monitor touch o anche online. La caratteristica principale di MyViewBoard è la possibilità di collegare un account scolastico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il vostro amministratore, il vostro animatore digitale, attraverso la console di MyViewBoard potrà collegare direttamente gli account scolastici del vostro istituto. A che cosa serve questa funzione? Si chiama Single Sign-On e vi darà la possibilità come vedete schermo di inquadrare un QR code ed entrare direttamente con le vostre password scolastiche sfruttando un'applicazione installabile sul proprio cellulare o su un tablet o eventualmente anche digitando su questo box che vediamo la password e la mail del vostro istituto. Grazie! Grazie! Grazie!